La strada dalla Maiella al Parco Nazionale d'Abruzzo ha per tappe Pesco Costanzo e il Piano delle Cinque Miglia, Rivi Sondoli, Roccaraso, Castel di Sangro, che è come dire grandi conche di prati, sci, villeggiature, merletti, filigrane e ferri battuti, ma anche pecorini, ricotte, scamorse prelibate. Nell'alta valle di Sangro, Civitella al Fedena, Villetta Barrea, Pescasseroli sono soprattutto porte d'accesso ai boschi e ai monti del Parco Nazionale d'Abruzzo. Scanno si divide tra atmosfere pittoresche del borgo antico e moderne attrezzature di accoglienza per sportivi e visitatori in cerca di relax. Appena oltre, la valle del Sagittario è distretto gastronomico privilegiato con produzione salumiere e casearie di qualità, salsicce di fegato con miele, caprini e pecorini da razza sopravvissana e deliziosi arrosticini, ovvero spiedini alla brace di pecora. Da tutte le zone montane, insieme a buoni mieli, vengono rustici pani di grano duro e patate. Tornando sulle tappe principali, Pesco Costanzo domina dalle pendici del Monte Calvario, la conca prativa dell'altopiano del quarto grande. Notevoli le antiche attività artigiane del luogo, merletto a tombolo, filigrana, ferro battuto, intaglio del legno. Rivisondoli, invece, è località di passaggio per giungervi, ma non solo. Oltre all'interesse d'ambiente, si trovano botteghe rappresentative della rassegna agroalimentare del circondario. Roccaraso è celebrata in moderna località di villeggiatura e di sport della neve, ai margini della Pineta e del Prato, uno dei singolari altipiani della montagna abruzzese. Pescassero, lì, infine, è una delle porte del Parco Nazionale d'Abruzzo, rappresentativa della civiltà pastorale. Teatro per millenni, della transumanza, ovvero della migrazione delle greggi dai pascoli montani alle zone di svernamento in Puglia e viceversa. Questi percorsi, i cosiddetti tratturi, sono caduti in disuso, purtroppo, ma a talora ne restano significative testimonianze, come nella Valle del Sangro, ancora oggi segnata dal tracciato che pecore e pastori seguivano scendendo da Pescassero lì a Candela. Il piatto che meglio rappresenta questo antico retaggio è l'agnello, cacio e ova, nel quale rivivono gli scambi estemporanei effettuati dai pastori in cammino con la gente dei luoghi. Carne d'agnello e formaggio pecorino da una parte, uova e prodotti di masseria dall'altra. Pescassero lì, a pesche per gli uomini e zè pesche per le donne in dialetto pescasserolese, è un comune abruzzese della provincia dell'Aquila, i cui abitanti sono detti pescasserolesi. Poco dopo la nomina senatore del regno ed ormai 44enne, Benedetto Croce tornò per la prima volta dalla nascita a Pescassero lì, nell'agosto del 1910. Il 21 agosto di quell'anno, dal balcone di palazzo Sipari, o Sipari, pronunciò un discorso, noto come discorso di Pescassero lì, appunto, nel quale salutò i propri concittadini, rammaricandosi per non essere tornato prima. La ragione di ciò era, dal filosofo individuata nel timore, utilizzò anche il termine fantasma, di disperdere le belle immagini che del borgo marsicano si era fatto, come in un sogno, attraverso i tanti racconti che, quando era piccolo, aveva udito dalla madre, Luisa Sipari. Aveva dunque paura che il sogno non corrispondesse alla realtà. Al contrario, la realtà fu migliore del sogno, tanto che Pescassero gli parve più bella, più ampia, più gaia e persino più civile di come l'aveva vagheggiata. Belle parole, quelle di croce, che si conclusero anche con una sorta di profezia, secondo la quale il nome del suo paese natale sarebbe diventato in pochi anni familiare a tutti, perché a Pescassero lì sarebbero arrivati da ogni parte i villeggianti e gli escursionisti. Nel riconoscergli quella veggenza, che soltanto certi grandi uomini possono vantare, non va trascurato che una parte della fama del borgo sia dovuta proprio anche all'opera dello stesso filosofo, che presentò, da ministro della pubblica istruzione, il disegno di legge per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, che venne approvato poi come la legge 778 del 1922, primo fondamento legislativo dei parchi nazionali italiani e che scrisse anche la monografia di Pescassero gli più tardi collocata in appendice alla prestigiosa storia del regno di Napoli. L'etimologia del nome si è prestata nel tempo a varie ipotesi. Come ha ricordato sempre Benedetto Croce nella monografia intitolata Pescassero gli, se il generico pesclum dal significato di peschio o pesco vale come luogo alto e ripido, configurando nel caso specifico la cresta dove sorgono i ruderi del castello, per Seroli taluni avevano affermato che potesse derivare da Serra, cioè la chiusura del varco che congiunge alle montagne delle Serre o, come formulato dal geografo Roberto Almaggia, dalla Serretta, vale a dire la piccola Serra che dal monte Forcella si protende verso il fiume Sangro. Lo stesso Croce, soggiungendo di non ritenere convincenti tali versioni, suggeriva anche di tener conto dell'ipotesi che il pesclum ad serulum, anche attestato in pesculum ad serule o pesclum ansericum, potesse significare il peschio presso il sangro, dal latino Sarus, che nasce poco discosto e scorre sotto quel monte, ancora povero d'acque, ancora piccolo, Sarulus piccolo sangro. Dal punto di vista storico, il territorio costituì il capolinea della transumanza fin dall'epoca dei Sanniti, ma ebbe anche particolari influenze dei Marsi e dei Peligni. Incluso nella contea dei Marsi, fino all'Alto Medioevo, seguì dal Basso Medioevo in poi le vicissitudini storiche e culturali del territorio dell'Alto Sangro. La città antica di Plestinia, in passato localizzata dagli storici marsicani come Muzio Febonio tra le alture di Campomizzo e Pescasseroli, sarebbe con ogni probabilità riconducibile ai resti della Rocca Vecchia di Pescina, nella Valle del Giovenco. Il versante iniziale dell'Alta Val di Sangro fu in antichità una terra di passaggio dei Marsi, dei Peligni e delle tribù Sannitiche. Dopo la colonizzazione romana fu soggetta all'Ager della città volska di Atina. Al termine delle guerre Sannitiche, l'Ager Marsorum, Alto Sangrino, nonostante l'inclusione all'Agence Sergia dei territori posti nei pressi del confine indicato dal monte Marsicano, in particolare l'Oppidum dell'area di Pescasseroli, non venne stravolto. Il tratturo pescassero di Candela costituiva un percorso pastorale della transumanza dai monti abruzzesi al tavoliere delle Puglie, che con i suoi 211 chilometri era il secondo o terzo tratturo più lungo dell'Italia meridionale. Il castello recinto medievale, situato sul colle, che domina il nucleo urbano contemporaneo, venne edificato a cominciare dal 1000. Allora la località acquisì il toponimo di Serule e successivamente di Pesculum ad Serule. Caduto in rovina, il centro fortificato fu abbandonato definitivamente nel corso del 1300, a favore del centro abitato che si sviluppò più a valle. Pescasseroli venne inclusa tra i domini della famiglia Borrello, nel 1000, e come su feudo dei di Sangro e da questi, dopo la caduta dei Gisvevi, passò ai D'Aquino. Nel 1349, quando Adenolfo II d'Aquino perì con tutta la famiglia sotto le rovine del castello di Alvito, andò al ramo dei conti di Loreto. Nel 1461 la baronia di Pescasseroli fu ereditata da Antonella d'Aquino, marchesa di Pescara. Alla fine del 1500 il feudo fu poi venduto a Giovan Giacomo di Sangro, che morì nel 1607. Dopodiché fu messo all'asta e da questo momento, fino all'inizio del 1700, si registrò una lunga successione di diversi feudatari, finché nel 1705, per il prezzo di 15.770 Ducati, fu acquistato dalla famiglia Massa di Sorrento, ultimi baroni di Pescasseroli, prima dell'affacciarsi della nuova borghesia ottocentesca, nel caso specifico della famiglia Sipari, la famiglia di Benedetto Croce.